Passeggiata e corsetta, seconde case e visita parenti, per non parlare di accudire bambini piccoli con i genitori impegnati a lavoro o andare a ritirare prodotti già acquistati in punti vendita o magazzini ubicati in altro comune. Sono alcune fra le numerose domande che arrivano ogni giorno a Telequattro, così come alle centrali operative di Polizia Locale, Polizia di Stato e altre forze dell'ordine, sul come orientarsi in questi giorni di zona rossa. Posto che la premessa è sempre quella di comportarsi con criterio, rimandare attività procrastinabili non essenziali e limitarsi al momento alle reali esigenze, ci sono ugualmente situazioni che il decreto permette e che talvolta vengono modificate per l'occasione. Inutile ribadire i concetti già plurinoti, come coprifuoco, chiusura locali, asporti, chiusura teatri, palestre, piscine, eccetera. I casi specifici della zona rossa spesso si riferiscono agli spostamenti quotidiani, premesso che le lezioni scolastiche si sono spostate praticamente tutte con didattica a distanza, nasce l'esigenza di dover badare ai più piccoli, nei casi in cui i genitori sono impegnati al lavoro. Ecco quindi che, sebbene il governo lo sconsigli fortemente, è possibile fare ricorso...